benvenuti amici nel canale di mariella fantasy quella che voglio mostrarvi questa volta è un'altra idea e in assenza di materiali poiché siamo stati costretti a rimanere tutti a casa e molti negozi quasi tutti appunto sono chiusi avendo la necessità di realizzare qualcosa all'uncinetto come per esempio un contenitore come questo voi non ci crederete ma questo è stato realizzato con una fettuccia ricavata dai sacchettini di plastica adesso vi mostro come fare a creare un gomitolo di fettuccia a filo continuo senza interruzione allora prestate molta attenzione perché ci sono alcuni passaggi molto delicati magari mi soffermerò allora prendete un sacchetto lo lisciate con le mani lo stirate così come faccio io lo piegate in due avendo pure appunto di sempre stirarlo con le dita le mani e lo piegate ancora una volta prendiamo le nostre forbici e tagliamo queste estremità una questa non ci servirà la butteremo via e quest'altra via adesso prendiamo il nostro sacchetto ex sacchetto ormai e lo allarghiamo avendo cura sempre di non lasciare delle pieghe ok le due parti ancora sigillate le predisporremo in questa in questo ordine una in alto e l'altra in basso mentre lateralmente lasceremo le estremità quelle aperte ok adesso prendiamo le estremità in basso e la pieghiamo lasciando però una distanza da quella sottostante di almeno due centimetri così prendiamo di nuovo e la ripieghiamo e ancora un'ultima volta così adesso prendiamo le nostre forbici ed effettueremo tanti tagli distanti circa un centimetro l'uno dall'altro senza oltrepassare questo bordo ci fermeremo prima così 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 ecco fatto adesso adesso apriamo il tutto ecco qua ed ecco quello che ci si presenta allarghiamo da dentro delicatamente e mettiamo al centro la parte diciamo dove le strisce non sono state tagliate del tutto ed è la parte più larga che era prima costituita dall'estremità io l'ho spostata l'ho allargata qui risistemiamo chiaramente le nostre striscioline piegate ancora mettiamo in verticale e adesso massima attenzione perché è qui il punto cruciale che se non si comprende questo chiaramente va a monte tutto il lavoro apriamo il laterale prendiamo un'estremità e ricaviamo la prima fettuccia la prima estremità della nostra fettuccia avete visto il taglio trasversale che ho fatto no stendo attenti a non tagliare l'altro accanto da questo momento in poi seguiremo semplicemente la traccia delle strisce che ci troveremo davanti per cui ovviamente più lunghe saranno le forbici che noi avremo più facile sarà il lavoro seguiamo la traccia è un lavoretto un po lungo che potrebbe impegnare diciamo un pomeriggio intero se dipende dalla quantità di sacchetti di cui disponiamo altra parentesi volevo ricordarvi che i sacchetti migliori per la lavorazione all'uncinetto sono quelli di plastica molto sottile attenzione a non utilizzare quelli biodegradabili perché se abbiamo la necessità poi di sciacquare dalla polvere il nostro lavoretto chiaramente quelli biodegradabili si scioglierebbero al contatto con l'acqua continuiamo così mi raccomando state molto attenti e creeremo creeremo in questa maniera una fettuccia continua senza interruzioni che poi andremo ad arrotolare in un gomitolo da mariella fantasy è tutto spero di esservi stata utile e iscrivetevi al mio canale alla prossima